Bentornati, bentornati, oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare e per farlo voglio introdurre un argomento attraverso l'ausilio di questo testo che si chiama Suona l'ancora Sam, le più belle battute delle grande cinema, un libro che vi consiglio, ho comprato da poco e credo anche uscito da poco, che è assoluta e totale fonte di ispirazione, quindi molte cose che mi sentite dire arrivano anche da qui, naturalmente la maggior parte diciamo per aver visto dei film, ma molte arrivano anche da qui, tra l'altro ve lo consiglio perché è proprio una fonte di ispirazione anche per andare a scovare dei film che magari non sapevate e non avete mai visto, non sapevate che esistessero e non avete mai visto, dunque la solitudine mi ha perseguitato per tutta la vita, dappertutto, nel bar, in macchina, per la strada, nei negozi, dappertutto, non c'è scampo, sono nato per essere solo, questa battuta è tratta dal film Taxi Driver con uno straordinario Robert De Niro, film che immagino molti di voi avranno visto, ebbene questa è una battuta che ripete sempre il nostro Sandro Tonali la mattina quando entra a Milanello, allora siccome io sono come le formiche, cioè anch'io nel mio piccolo mincazzo, quando leggo delle cose come quelle di Tutto Sport di questa mattina, fatico, fatico molto a contenermi perché vorrei proprio prendere, come dire, prendermi, aprire un altro canale su YouTube solo di polemica, solo per dare contro a questi giornalisti che scrivono queste cose, Tonali, che torna in panchina domenica perché torna Benasser, non ha convinto in tutti questi primi mesi in rosso-nero, il giovane centrocampista infatti non ha ancora reso secondo le aspettative del club, che comunque crede nel potenziale del ragazzo, certo la concorrenza ora torna a essere importante e trovare spazio non sarà semplice come prima, e poi vabbè ma Sandro avrà le sue occasioni un pochino così di zuccherino alla fine. Allora, io ribadisco una cosa, sono assolutamente convinto che questi giornalisti non ci capiscano molto di calcio perché possiamo pensare alla mala fede? Va bene, sappiamo che Tutto Sport è un giornale diciamo di quell'area, ecco se vogliamo dirla un po' in politichese, quindi vabbè diciamo che in molti, voi avete, in molti hanno scritto se Tonali fosse andato all'Inter o alla Juventus forse il trattamento sarebbe stato diverso, sicuramente se fosse andato alla Juventus il trattamento sarebbe stato diverso perché abbiamo letto anche in questi giorni insomma articoli sull'innesto di Mandragora al Torino e si è scritto come se Iniesta passa, no? Ecco però voglio dire una cosa, a parte il fatto che domani doppio appuntamento perché domani parliamo di due cose importanti se non succedono cose incredibili ma non credo, parliamo della difesa del Milan, i numeri e poi vi faccio anche un po' così un resoconto sulla situazione di mercato delle varie squadre, vi facciamo un po' il punto e vediamo come chi si è rinforzato, quasi nessuna, allora dicevo i Tonali, Tonali noi tifosi del Milan, me lo dovete promettere facciamo un patto tra di noi, facciamo un patto tra di noi, un accordo, un new deal tra di noi, difendiamo Tonali contro tutti questi, il ragazzo ha bisogno del nostro supporto, il ragazzo comunque sta crescendo, sta crescendo perché a Bologna ha giocato una buona partita e chi, non noi, ma chi tra i professionisti dell'informazione non l'ha visto è in malafede perché non si può essere in buona fede e dare 5 Tonali, tralasciamo il discorso dei voti che sappiamo come vengono dati eccetera, però voglio dire se sei in buona fede non puoi dare 5 Tonali, se dai 5 e sei in buona fede vuol dire che di calcio non capisci niente, vuol dire che tu una partita la guardi guardando dove va la palla e facendoti più o meno un'idea di cosa succede, ma non sai nulla di tattica, non sai nulla di movimenti, non studi e non approfondisci che è quello che dico sempre io, sapete quanto vi ho rotto le palle su questa cosa, lo studiare, l'approfondire, il capire perché succedono certe cose, ecco allora, Tonali ha fatto, secondo me è una buona parita con la Lazio dove ha tenuto sul centrocampo da solo, non dimentichiamocelo perché giocava con Krunic che poveraccio non può giocare un centrocampo a 2, lo sappiamo, quindi ha tenuto da solo il centrocampo in piedi, ha giocato al posto di Benasser, non essendo un Benasser, ma essendo più un Chessy, ma non essendo nemmeno un Chessy, quindi ha dovuto trovare i suoi equilibri, ha dovuto trovare lo spazio, capire dove giocare, farlo in un meccanismo che funziona e secondo me, come vi ho detto altre volte, trovare il proprio equilibrio in un meccanismo che funziona è un po' più difficile, il centrocampo del Milan è un reparto strategico, è un reparto che dà animo alla difesa, che dà animo all'attacco, che si mescola con il trequartista, che si mescola con i terzini, non è semplice, non è semplice, Tonali viene dal centrocampo a 3, ha giocato una sola stagione in Serie A, possiamo avere un po' di pazienza? Noi tifosi dobbiamo, ripeto, appello, noi tifosi dobbiamo sostenere Tonali, è una battaglia perché se ci mettiamo anche tra di noi a dividerci e a contestarlo, allora non la finiamo più e facciamo il loro gioco, facciamo il gioco di questi signori che continuano velatamente a scrivere che abbiamo preso un bidone. Allora, quando Tonali verrà convocato in nazionale, diventerà titolare, quando un domani, vi dico anche questa, quando un domani sarà necessario cambiare il sistema di gioco del Milan, vuoi perché cambiamo allenatore, vuoi perché Pioli si inventa un nuovo sistema e passiamo a un centrocampo a 3, abbiamo un giocatore che sa giocare, in un centrocampo a 2, facendo un certo tipo di gioco, e in un centrocampo a 3 perché già ci giocava. Un altro punto? Volete un altro punto? Ve lo do. Nel momento in cui gioca Tonali, la crescita che abbiamo visto in queste ultime partite è utile perché ci consente di avere un giocatore con le caratteristiche uniche che solo lui ha, quindi abbiamo bisogno di fare un certo tipo di gioco? Mettiamo Tonali. Possiamo fare un altro tipo di gioco? Mettiamo Benasser. Possiamo fare un altro tipo di gioco ancora? Togliamo che si e mettiamo Tonali con Benasser. Capite bene quante soluzioni offre questo ragazzo? Che io mi rendo conto, adesso dal punto di vista dell'investimento, magari qualcuno dice, l'abbiamo pagato troppo, eccetera, vabbè, vai, vai, sapete che io poi su queste cose, insomma, io un pochino mi arrabbio, però voglio dire, tutti dalla stessa parte, per favore, per favore. Poi, fra poco parliamo di Toven, nel senso, insomma, una chiacchierata in generale, però che sì, allora, nella sfortuna della situazione pandemica che ha stravolto tutti gli equilibri aziendali e nelle aziende ci mettiamo dentro anche il calcio, bene, in questo stravolgimento è chiaro che una stretta correlazione tra quella che è la crisi e quelli che saranno i prezzi di mercato inevitabilmente dovrà esserci. Difficilmente potranno concludersi degli affari molto costosi, anche la prossima estate, e comunque alcuni prezzi verranno indubbiamente rivisti al ribasso. E questo vale un po' anche per gli ingaggi, quindi anche per le contrattazioni, no, dei nuovi e di quelli che sono in piedi adesso e di quelli che verranno. Bene, oggi la gazzetta dello sport scrive che la valutazione di che sì è sui 40 milioni. Adesso io posso anche accettare una cifra del genere, nel senso che sappiamo che siamo in un momento così e bla bla bla, però, però, quando vedo che la clausola escissoria di Thomas Partey era di 50 milioni di euro, mi domando se effettivamente un che sì, a questi livelli, parliamo di uno dei centrocampisti più completi d'Europa, non stiamo parlando di un qua 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 qua, stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti d'Europa, che tira anche i rigori, tra l'altro li tira anche bene, che ti garantisce anche un numero di gol, che ha soprattutto aumentato la sua personalità, che ha aumentato la sua influenza sulla squadra, che ha aumentato soprattutto l'intelligenza tattica e quant'altro. Allora, sinceramente, tra Thomas Partey, che comunque aveva la clausola escissoria a 50, e Frank Hessey, io adesso non è che vedo moltissime differenze, anzi, adesso che si è più forte di Thomas Partey, che è un altro giocatore che era stato molto aiutato da Simeone nella sua crescita, ed era uno che sembrava al che sì, diciamo, dei primi tempi al Milan, ai suoi primi tempi, io me lo ricordo, insomma, anche lui ha avuto una grande evoluzione, ma Frank Hessey adesso, stando, diciamo, ai prezzi, io potrei pensare anche a qualcosina, è più di 40 milioni di euro, non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate, io quando ho letto la notizia ho subito immaginato, ma sono 40 milioni, sinceramente mi sembra un po' poco, però ditemi voi quale sarebbe la quotazione ideale vostra di Frank Hessey. Vediamo la questione di Toven, siccome si continua a parlare insistentemente di Toven, Toven vuole il Milan, Toven è disposto anche a non chiedere una cifra astronomica, e torniamo al discorso di prima, vedete come il riallineamento delle posizioni dovrà inevitabilmente avvenire per tutti. Bene, allora, Toven è un giocatore di grande talento, questo è indiscutibile, i numeri della sua carriera a Marsiglia lo confermano, al netto, diciamo, della stagione dell'infortunio e quant'altro, la sua esperienza al Newcastle è stata un'esperienza negativa per motivi che lui stesso ha spiegato, cioè il fatto della giovane età, il fatto che si sia trovato per la prima volta ad andare via di casa, il fatto che fosse giovane, il fatto che aveva trovato un calcio molto fisico, lui ha dichiarato questa cosa, io dice, sono arrivato qui in Inghilterra e sinceramente non sapevo come comportarmi perché il calcio inglese è un calcio diverso dagli altri perché mette, antepone una certa fisicità ad altre cose, cose alle quali ero abituato, quindi, diciamo, la tecnica, la tattica, certe cose che avvicinano di più il calcio francese al nostro rispetto a quello inglese. Ecco, quindi l'esperienza di Newcastle è stata negativa, ma è stata sostanzialmente l'unica esperienza di fuori di Marsiglia per questo giocatore, che è un giocatore che ha avuto anche esperienze con la nazionale, insomma è nel giro della nazionale, lo è stato, poi no, poi sì, non ha nemmeno una presenza in Champions League, quindi non ha giocato ancora quella competizione, potrebbe farlo con noi la prossima stagione, sappiamo che il Maldini, diciamo, lo stima molto, ne ha anche parlato, è chiaro che da un punto di vista tattico il Milan andrebbe ripensato, andrebbe ripensato perché abbiamo analizzato quanto Salmeker sia importante nella struttura tattica del Milan e quanto sostituirlo con un giocatore che indubbiamente da un punto di vista offensivo darebbe un altro apporto, perché Tovein comunque ha messo all'effetto un sacco di gol, nella sua esperienza a Marsiglia, tanti per un esterno d'attacco, tanti assist anche in questa stagione, che è una stagione insomma che Marsiglia non è che stia proprio vivendo alla grande, sapete anche che Villas-Boas se n'è andato, insomma tanta confusione a Marsiglia, l'attacco dei tifosi al centro sportivo e tutte queste cose qua, per cui ecco, in questa situazione di caos comunque lui si è distinto, è un giocatore nel pieno della sua maturità, però ripeto, è un giocatore che obbliga, obbligherebbe il Milan a ripensare, diciamo, la sua struttura, perché Salmeker è un giocatore che abbiamo visto anche da un punto di vista numerico, si avvicina più quasi alle prestazioni di una mezzala, piuttosto che alle prestazioni di un esterno d'attacco, ed è molto 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 inserito nei meccanismi, nelle necessità, nei bisogni della nostra squadra, quindi sostituirlo con un attaccante puro, perché Toven è un esterno ma è un attaccante puro, richiederebbe una visione diversa di Milan, una visione diversa che potrebbe esserci e magari potrebbe collegarsi proprio a quello che dicevamo all'inizio, il 4-3-3 bandito da Milanello, perché diciamo su uso centrico, potrebbe anche ritornare, potrebbe anche non essere una soluzione da scartare a priori in un Milan del futuro, diciamo, in un Milan che vuole anche trovare delle alternative rispetto a questo sistema di gioco che tante soddisfazioni ci ha dato e ci sta dando, ma magari a lungo andare potrebbe aver bisogno di essere rivisto in alcuni momenti, in alcune partite, in alcune situazioni, soprattutto diciamo nell'idea che il prossimo anno andremo a fare la Coppa quella importante, ecco, quindi anche, come dire, questa valutazione va fatta, però, diciamo, se il giocatore ha effettivamente manifestato la preferenza di venire al Milan rispetto al Napoli, altre squadre, insomma, che sembrano interessate a lui, è evidente che ci sia già una certa sintonia, mi sembra, insomma, abbastanza chiaro che comunque contatti siano in corso, no, per cui io sinceramente sarei assolutamente per l'operazione, proprio perché, ripeto, è un giocatore che ci dà un piano tattico alternativo e, soprattutto, è un giocatore che, se conferma quanto di buono fatto nel campionato francese, può, nel pieno della sua maturità, può dare il suo contributo anche in Italia, può essere un giocatore già pronto, non certamente una scommessa. Aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni e ci sentiamo alla prossima.